Francesca Dall'Oglio, lei è la prima sorella di Paolo, prima di otto figli. Chi è Paolo e quali sono i ricordi più intensi legati alla vostra vita insieme di quando eravate in Italia? Paolo è sempre stato una persona che andava alla radice dei problemi, con una capacità di sentire le emozioni, di condividerle con gli altri, di partecipare agli altri, alle loro vicende umane. Fin da piccolo ha avuto questo dono di sapere entrare in dialogo con tutti, direi soprattutto con gli umili, è proprio una sua chiamata, un suo dono in questo senso. Poi certo, anche una persona per alcuni aspetti che poteva essere faticosa, perché è una persona che poi diceva quello che pensava, si metteva in discussione, ma metteva in discussione anche chi stava accanto a lui. Una persona che ha cercato di essere coerente dall'inizio. Poi certo, io mi sono sposata presto, quindi poi dopo alcune vicende l'ho seguita meno anche rispetto alla sua vocazione. Ci siamo molto riavvicinati negli anni 90 e poi sono stata vicino a lui anche tutto il periodo dell'esilio dalla Siria. Ecco, quindi un po' queste le riflessioni. In un convegno a Milano, un anno esatto prima del rapimento, padre Paolo Dall'Oglio disse proprio così, la Siria è la mia sposa alla quale mi sono unito per sempre, dopo aver lasciato mio padre e mia madre. Cosa rappresentava per Paolo esattamente il suo essere missionario nella terra di Siria, a farsi sentire? Allora, per Paolo prima di tutto è stata una chiamata al dialogo col mondo islamico, musulmano, e quindi questo l'ha portato a fare i suoi studi in Libano, è stato anche in Pakistan dove ha visto anche quella realtà di quei paesi, e poi Damasco, e lì la Siria poi gli è entrata nel cuore, fin da quando poi si è incontrato meglio in modo provvidenziale con il monastero di Marmusa che era diroccato e stava nel deserto. Ecco, mi viene da leggere brevemente se Paolo quando è stato allontanato dalla Siria, siamo nel giugno del 2012, era stato emesso prima un decreto di espulsione nei suoi confronti nel 2011 dal presidente Assad, e poi è stato reesecutivo nel 2012. Paolo scrive, nel momento in cui abbandono il paese alla volta di un doloroso esilio e il Dio mi è testimone che avrei piuttosto preferito giacere con i martiri della libertà nella polvere di questa amata terra e financo scendere nell'inferno della detenzione. Il mio cuore si consola inviando un messaggio di gratitudine ai cari abitanti del Calamun, attraverso le pagine libere che parlano alla generazione dei nostri giovani liberi. Quindi c'è qui una vicinanza sua a questi giovani impegnati nella rivoluzione, ma anche alla Siria che è nel suo cuore. Proprio nello stesso convegno di Milano, le parlo del 18 luglio 2012, lui si rivolse direttamente a Bashar al-Assad e disse «Mi hai cacciato via dalla Siria e hai fatto bene, perché la mia libera parola è più forte di ogni arma leggera o pesante». Che ricordi a lei dei racconti sulla Siria di padre Paolo? E come ha vissuto lui personalmente il dolore di essere esiliato? Ne avete mai parlato? Ne abbiamo parlato molto, perché poi Paolo ha passato l'estate del 2012 con la famiglia e quindi abbiamo potuto sentire questo suo dolore, questo coinvolgimento. Lui era perennemente tutte le notti al computer per cercare di essere presente su quello che stava accadendo. Dai suoi racconti, dalle sue emozioni abbiamo colto la sofferenza della Siria che Paolo in quel periodo, fino a quando è stato poi rapito, ha continuamente lottato perché il mondo prendesse atto della situazione catastrofica che poi si è puntualmente verificata. Ha fatto un appello a Kofi Annan, è stato alle Nazioni Unite, ha cercato di lottare fino alla fine perché questo baratro potesse evitarsi. È stato un loro e proprio profeta? Un profeta e come tutti i profeti poi il suo linguaggio era anche forte e radicale. A noi qui occidentali poteva anche essere difficile delle volte, ma lui ha testimoniato quello che sentiva nel cuore. E Paolo ha fatto un'ultima intervista a Orion TV quando il 27 di luglio del 2013, il giorno prima o due giorni prima di essere rapito. E si rivolge anche ad Assad, dice mettiti una mano sulla coscienza, puoi ancora fare qualcosa per evitare questa tragedia che si sta avvicinando. Ecco, mi associo un po' a questa domanda dove lei ha citato quello che Paolo diceva ad Assad. Credente in Cristo, innamorato dell'Islam, così aveva scritto padre Paolo negli anni precedenti. Ma qual era esattamente il suo sogno di unità tra le fedi e di pace tra i popoli? Allora Paolo parlava non di dialogo interreligioso, ma dialogo tra religioni. E poi parlava di buon vicinato, cioè sono gli esseri umani che si incontrano e solo lì è possibile trovare un dialogo, un punto di incontro. Paolo parla nel suo libro Collere e luce, che è l'ultimo che è uscito in italiano dopo il suo sequestro. Paolo parla di un incontro che lui ha fatto quando andò nella zona di Kusair nel 2013, nella primavera, rientrò di nascosto in Siria per trattare la liberazione di alcuni ostaggi. E si è incontrato con un importante jihadista. Paolo ha conosciuto anche a Buomar, quindi parliamo di personaggi importanti che c'erano in quel momento. E Paolo con questa persona, con cui erano supposizioni diverse, sono riusciti comunque a trovare un dialogo. E poi queste persone sono state liberate. Quindi Paolo dice il dialogo del buon vicinato. Ed è quello che la comunità di Marmusa, da lui fondato, continua a portare avanti. Il monastero è rimasto sempre aperto, tutti questi ormai quasi più di dieci anni di guerra. Sempre aperto, la gente non andava più, adesso hanno ricominciato ad andare, aiutano sul territorio, quindi questo messaggio continua ad essere presente. Un altro aspetto vorrei sottolineare. Paolo, oltre ad avere una dimensione di testimonianza, di profetismo e di coinvolgimento anche sulla giustizia umana delle persone, Paolo è un grande mistico. Paolo è colui che sta in contemplazione le ore. E nella regola di questa comunità è molto forte la dimensione della spiritualità e del misticismo. Lei personalmente invece come ha vissuto gli ultimi sette anni senza suo fratello minore? Una situazione drammatica, difficilissima, per usare un termine che usa mia sorella immacolata come se fossimo entrati in un tritacarne. La speranza non finisce mai. Lei dice, mia sorella, noi siamo malati di speranza. Allora le voci che sono uscite su Paolo, che è stato ucciso appena preso a racca, che sono voci che sono emerse subito dopo un nostro appello nel 2014. Sono state rilanciate queste voci in momenti significativi e strategici e aggiungerei strumentali. Allora noi siamo pronti, siccome lo era Paolo che era pronto a donare la sua vita, quindi siamo pronti anche ad accettare il fatto che possa essere stato ucciso ed è anche realistico. Però ci sono anche molte voci che viste a distanza di sette anni hanno un loro senso, che mi fanno dire che Paolo può essere ancora vivo. Le voci che sono uscite da chi l'ha visto in prigione, da chi parla di un incontro con i servizi nel 2014, alcune cose sono state poi riprese dal sito Al-Akbar legato a Hezbollah. E poi le ultime voci che erano uscite a Baguzza, che Paolo era vivo nell'ultimo assedio alla Roccaforte dell'Isis. Beh, io ho avuto diversi riscontri che facevano coincidere queste voci con qualcosa che era molto verosimile. Probabilmente ci sarà bisogno di rendere più pubbliche queste cose. Infine, appunto, che rapporto ha avuto lei con le istituzioni negli ultimi sette anni? Si sarebbe potuto fare di più o ha sentito la loro vicinanza? C'è un appello che vuole lanciare in questo anniversario del rapimento di suo fratello? Allora, io direi che abbiamo vissuto, che io personalmente ho vissuto una situazione da parte delle istituzioni e di chi doveva lavorare in concreto un po' schizofrenica. Cioè noi avevamo il presidente Mattarella che ci ha ricevuto, che è stato molto vicino. L'unità di crisi che ci sono stati sempre vicini, umanamente attenti da un punto di vista psicologico, di ascolto e tutto. Abbiamo incontrato, quando era presidente del Consiglio, Gentiloni, anche quando era ministro degli esteri, ho avuto un'occasione privata di incontrare il presidente Conte da tutti. Abbiamo avuto anche da parte ecclesiale, perché Papa Francesco ha fatto un appello, ci ha ricevuto. Abbiamo, ma in particolare dalle istituzioni italiane, ci hanno rassicurato che si faceva qualcosa. Ma poi una percezione concreta, noi familiari, che si è lavorato, e in qualche modo di quello che si è potuto verificare e che cedesse un messaggio di realtà e di impegno, questo mi sento di dire che non c'è stato. Sono sette anni ed è ora che qualche cosa venga fuori di più. Temo anche che ci sia una tentazione di chiudere la vicenda, mettere una pietra sopra, dicendo che Paolo è nelle fosse comuni e che non è possibile sapere nulla di quello che gli è accaduto. Io torno a dire che ci sono molte testimonianze che mi fanno pensare qualcosa di diverso, anche perché ultime cose sono venute fuori che Paolo non è entrato nel palazzo del governatorato a Racca, ma che forse è stato preso in una macchina con i vetri oscurati. Paolo portava una missione importante per liberare degli ostaggi, ma non solo. Paolo è andato lì perché si bloccasse la deriva jihadista che stava arrivando nella rivoluzione. Quindi in uno spirito di dialogo e di testimonianza, perché mi viene in mente una parentesi. oggi ricordiamo il grande musicista che ha scritto la colonna sonora del film Mission. Quell'episodio raccontava quei gesuiti che lottavano nelle Reducciones del Paraguay e davano la vita. Ecco, Paolo vive la sua fede, la sua testimonianza sul campo.